Buonasera ai telespettatori di Rete 7, vediamo insieme le notizie. Intanto nessuna informazione utile per questa sera, veniamo alle notizie di domani, giovedì 15 febbraio. Alle 10.30, presso la lapide posta in corso Cincinnato, Angolo via Pirano, commemorazione vittime delle foibe, dell'esodo Giuliano Dalmat e delle vicende del confine orientale. Sarà presente la banda musicale del Corpo di Polizia Municipale della città di Torino. Alle 20.00, la prima al Teatro Reggio Salomè di Richard Strauss. Domani notte, come di consueto, la chiusura dei sottopassi per operazioni di pulizia meccanizzata. 23.30, 1.30, chiuderà sottopasso Repubblica Portapalazzo. 2.30, 4.30, chiuderà sottopasso Lanza di Corso Massimo d'Azeglio. Vi ricordo che è ancora in svolgimento, nonostante la quaresima, il Carnevale, il Luna Park al Parco Carrara, sino al 4 marzo. Direi che è tutto, buona serata, buon viaggio e a domani.